Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come L'influencer Giulia Salemi è pronta a far le scarpe alle opinioniste? I commenti del web non lasciano margine di dubbio La bellissima influencer italo-persiana Giulia Salemi è la vera rivelazione della stagione televisiva autunno, inverno Dopo l'ingaggio in Mediaset Infinity con il suo beauty talk Salotto Salemi, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha agguantato al volo la ghiotta proposta di Alfonso Signorini Il navigato conduttore l'ha conosciuta in veste di concorrenti del GFVIP, circostanza in cui Giulia e Pierpaolo hanno gettato la base della loro relazione Intravedendone l'immenso potenziale, il mattatore ha deciso di offrirle un ruolo di rilevo nel parterre del GFVIP7 Giulia Salemi ha infatti il compito di monitorare la temperatura dei social durante le dirette del programma, offrendo al pubblico uno spaccato del sentimento in rete, e proponendo i meme più spassosi L'ingaggio è cucito a misura su di lei, e la sua allure spumeggiante, spontanea e discreta rischia di oscurare le due opinioniste ufficiali Se l'accoppiata sulle poltroncine rosse composta da Sonia Bruganelli e Orietta Berti convinse a metà, Giulia Salemi invece rappresenta una boccata d'aria fresca per il programma I suoi interventi azzeccati e mai sopra le righe avvicinano il pubblico del programma e Beniamini nella casa di Cinecittà, e la bella influencer funge da tramite tra la bolla televisiva e il sentire comune Secondo l'esperto televisivo Davide Maggio, Giulia Salemi rappresenta un punto di forza essenziale per il programma, al punto da diventare un personaggio irrinunciabile nonostante l'esordio fresco nel format Il critico commenta, alla fine della fiera, Giulia Salemi ha più spazio delle opinioniste . Un utente replica concorde, e ti dirò, se lo merita pure. È gradevole e sta sul pezzo Qualche adoro o top da togliere, ed è perfetta. Giulia Salemi, avvistato il tributo su Twitter, ha risposto con la consueta ironia, sdrammatizzando i lusinghieri complimenti, adoro Il meritatissimo successo di Giulia Salemi sta inavvissando la presenza delle opinioniste, ma non è tutto A quanto emerge, il cachet di Orietta Berti per l'ingaggio nel programma ammonterebbe a cifre stellari, nonostante i tiepidi riscontri da parti del pubblico Il fiuto clinico di Alfonso Signorini potrebbe fruttare a Giulia un ruolo in prima linea nella prossima edizione del programma, tanto più che l'influencer sta militando anche in veste di speaker radiofonica, maturando perciò esperienza on air Come si suol dire, chi vivrà, vedrà. Grazie per aver guardato l'intero video La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video